Ci troviamo sempre a Marina di Grosseto, sì perché Clip Summer quest'anno è arrivato direttamente in spiaggia abbiamo le nostre magliette come vedete bene che come posso dire suggellano il momento importante dell'estate che è arrivata ed è giusto anche partire così d'amblè senza pensarci troppo e buttarci dentro delle persone abbiamo una ragazza con la mamma giusto? Sì, oddio, oddio c'è la televisione, va bene, nome? Lavinia, Lavinia, questo gliel'ha messo la mamma sicuro, il nome? Marilena, Marilena e Lavinia di dove siete? Di Loro Ciuffenna, come di Loro Ciuffenna? L'abbiamo presa così a parte sa Marina di Grosseto è un po' Valdarno Beach come possiamo dire va bene, va bene così, allora domanda perché al mare? Cioè perché al mare così di questo periodo siamo tra giugno e luglio insomma è un po' un periodo, non è proprio all'agosto, perché? Perché ad agosto ci piace la montagna Ah, gli piace la montagna, l'anzi va tutti a darci dosso, è bellissimo Di qua invece stanno andando via, ecco qua la famiglia in vacanza, salve, nome? Claudio Claudio, di qua? Silvia Riccardo Claudio, Silvia, Riccardo, andate via, andate A mangiare A mangiare Visto che sa mangiare, mangiare insomma, mi sembra giusto Qui stanno andando via anche altre persone, il nome? Francesca Francesca, di qua? Franco Franco, lei lo vedo esperto della spiaggia, dica la verità, è lei che smonta e rimonta l'ombrellone tutto l'anno? Sì Ecco, e le donne cosa fanno? Nulla Perfetto, l'avevamo intuito, di qua? Ciao Nome? Lorenza Lorenza, lei smonta e rimonta oppure fa fare tutto a Franco? È lui il capo È lui, ora, le donne dicono che sei te il capo, ma poi alla fine sei te che lavori più che altro Vabbè, comunque abbiamo fatto questa panoramica, poi torniamo adesso dalla nostra Lavinia e dalla nostra mamma di Lavinia Ah, perché? Perché vogliamo lanciare il video, il videoclip Allora, insieme alle nostre due ragazzuole, chiamiamole così, lancia... Vabbè, che te ne frega Hai 21 anni Certo, 22 22, 22 anni Vabbè, ragazzi 22 con una figliola di 16 Beh, insomma, vabbè, d'altra parte Beh, è fatta presto, è stata una cosa precoce Va bene, allora, noi, io mi sdraio Ah, un pochino Ah No, se mi sdraio un altro po' mi stronco la schiena Allora, dicevo Andiamo a vedere il video che, ovviamente, ci ricongiunge anche un po' con la musica italiana Non ne vedremo tanta quest'anno di musica italiana Perché, purtroppo, tormentoni estivi italiani non ce ne sono Eh, ragazzi, è inutile stare Siamo, dopo il mondiale, eliminati anche dalla musica Dobbiamo dire, senza nessun problema Ma il mondiale non ne parliamo perché a noi del calcio non ci interessa Vogliamo parlarvi di musica Vogliamo parlarvi di estate Grazie a Cliff Summer Allora, lanciamo una canzone che è pacata Tranquilla Anche perché dopo aver parlato tanto Bisogna anche un pochino bere un po' di acqua Se no, ci secchiamo subito la gola Appena è iniziata la puntata Arriva Francesco Renga con Il mio più bel giorno del mondo Una canzone un pochino tranquilla Ma che ci sta Perché dopo ci saranno canzoni ben più movimentate Giusto? Sì Non lo sa neanche la scaletta Però dice sì perché gli piace così Ah, inglese English word No, bellissimo Musica